La Corte Costituzionale oggi ha messo una pietra non tombale, noi rimuoveremo quella pietra perché continueremo a chiedere il cambiamento necessario. Invece il Parlamento della Repubblica ha dimostrato qual è il danno, il guasto morale, la malattia oscura che lo divora, aver per l'ennesima volta offeso quel principio costituzionale che vuole tutti i cittadini uguali davanti alla legge, soprattutto la disinvoltura con cui si può disattendere un'indicazione della magistratura quando si tratta dei rapporti tra mafia e politica. Cosentino accusato di essere il referente politico del clan dei Casalesi, un'accusa terribile, avrebbe dovuto il Parlamento inchinarsi di fronte al primato della legge perché evidentemente c'è un primato di casta che ha vinto.